Quando avevo 18 anni avevo incontrato un'associazione studentesca che si chiama UDS e pensavo di voler fare la rivoluzione. Come è evidente questa rivoluzione non sono riuscita a farla e quindi non ho realizzato il mio obiettivo e però continuo a pensare che di una rivoluzione ci sarebbe tanto tanto bisogno. In realtà qualcosa che cambi le nostre vite oltre che il sistema sociale, il modello economico intorno a noi, qualcosa che parli davvero tanto della concreta realtà delle persone. Come immagino la mia vita fra 10 anni? Faccio molta fatica ad immaginarla, però posso dirvi come la desidererei, vorrei una vita che mi permettesse di realizzare i miei desideri, che magari non è detto che siano una volta e per tutti, che magari possono anche cambiare. Vorrei una vita che mi permette di sperimentare cose diverse, vorrei una vita in cui riuscire a mettere al primo posto la mia felicità, i miei affetti, che siano gli amici, che sia un compagno, che sia una famiglia e vorrei riuscire a non essere risucchiata nel vortice degli impegni, del lavoro, delle cose da fare perché penso che la vita sia fatta di tante cose e che il nostro obiettivo migliore sarebbe riuscire a tenerli tutti insieme. Quindi che cosa mi serve per riprendermi? Mi serve che cose tipo l'Assemblea Nazionale dei Precari che abbiamo fatto oggi si ripetano tante volte, sia perché sono un passo in avanti verso la rivoluzione di qui sopra, quella anche umana interiore, sia perché è un'occasione per incontrare tante persone con cui stringere legami di affetto, di amicizia, oltre che occasioni di scambio intellettuale e di confronto e sono sicura che ce ne saranno ancora molto e quindi io sono Claudia e mi riprendo.